Antonio Vinzi è un Gela che fila come un espresso tra vittorie consecutive, nelle ultime tre gare addirittura neanche un gol subito a dimostrazione del fatto che è una squadra che ha una difesa rocciosa e ha parallelamente anche un attacco stellare perché ha realizzato ben sette gol. Adesso c'è un impegno arduo, giocherete contro la Cavese che ci riporta in mente anche i fastidi una volta quando il Gela prese il volo per la C1. Ti chiedo subito che partita ti aspetti e che partita sarà? Allora innanzitutto so il blasone di questa partita, il blasone della Cavese. Ero piccolino quando ci fu quello scontro Cavese-Gela però ne parlo, ne ho una sfida molto sentita. Noi andiamo a Cava dei Tireni senza alcun peso, naturalmente, fra virgolette perché sappiamo tutti il valore della partita. Sicuramente fare un risultato in quel campo non è facile però darebbe una svolta al nostro campionato Noi sappiamo che dobbiamo divertirci, dobbiamo affrontare quella gara di domenica come tutte le altre domeniche e il risultato che verrà ci prenderemo. Sapendo che sicuramente non sarà una partita facile ma noi abbiamo i mezzi come l'abbiamo dimostrato Abbiamo definito il big match vero e proprio della giornata che arriverà domenica prossima perché si affrontano la seconda contro la terza in classifica Quello sicuramente, sappiamo che è il match di cartello di giornata però sarà una domenica da vivere, speriamo che sia una domenica positiva Non sarà facile però non la carichiamo più di tanto noi perché sappiamo che dare meno importanza a volte può essere una cosa positiva però sappiamo che ci teniamo a fare bene sicuramente C'è una concorrenza leale con Moreno Saitta? Anche perché c'è una grande amicizia È normale, questo sicuramente con Moreno non abbiamo nessun tipo di problema, ci alleniamo, ognuno cerca di fare bene Giustamente io sono arrivato anche in ritardo, i risultati sono dalla nostra parte, non si può dire niente È normale che anche io voglio giocare, ci mancherebbe Però con la sana competizione sportiva, pian piano sono sicuro che ci toglieremo entrambi delle belle soddisfazioni come lui si sta togliendo adesso, ma io sono sereno e sono felice perché è un gruppo favoloso Infatti i risultati comunque stanno dando anche merito a questo perché se non fosse stato per il gruppo che è coeso non avremmo dato certe risposte dopo anche la batosta subita a fratto abbiamo risposto subito con tre risultati consecutivi In tutta sincerità, questo Gela dove può arrivare? Questo Gela può arrivare, può arrivare a divertirci, a far divertire Solo questo, basta, passare delle domeniche serene e poi vediamo cosa arriva Io sono un tipo molto scaravandico, non mi sbilancio mai, però l'importante è lavorare con serenità come stiamo facendo e i risultati si vede che stanno arrivando piano in piano